Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Quasi mezzo milione di euro per rimettere a posto le scuole fanesi Attivato la stazione ferroviaria di Fano il servizio di assistenza per le persone disabili Dopo l'incendio alla Profil Glass di Bellocchi ancora nessun dato da parte di Arpa La satira di Carton Sea torna nella bella cornice del Bastione Sangallo Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e ben ritrovati Dunque buone notizie per chi ha i figli che frequentano le scuole fanesi perché il comune di Fano ha dato il via ai lavori di sistemazione di molti istituti scolastici Vediamo quali nel servizio di Lino Balestra 400.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria per gli istituti scolastici fanesi stanno prendendo il via in questa pausa estiva Interventi mirati sia sul fronte edilizio per sei edifici che sul fronte della messa a norma degli impianti elettrici per le scuole di Centinarola e Montessori oltre alle materne di Tre Ponti e Magioti Intervento a parte subirà il nido Il Grillo al fianco dell'Istituto Battisti dove sono stati stanziati 120.000 euro La prima scuola a ricevere gli interventi che comunque saranno portati via in contemporanea è la materna del Vallato dove sta già operando la ditta Guidi Giovanni incaricata degli interventi Investiremo tantissimi soldi per le scuole materne, le scuole elementari e le scuole medie Ovviamente una cifra importante anche su questa scuola materna qui del Vallato è una cifra importante che ci permetterà di sistemare dal punto di vista estetico anche la situazione qui fuori con una ritenteggiatura per dare anche una nuova veste a questo edificio poi interverremo a bonificare alcune situazioni dal punto di vista edilizio all'esterno che devono essere bonificate sistemeremo i tetti, tinteggeremo laddove serve perché in passato ci sono state delle infiltrazioni d'acqua quindi saremo pronti sicuramente per la nuova riapertura con una scuola bella che renderà anche più piacevole oltre che il lavoro delle insegnanti anche la vita tra virgolette scolastica dei piccoli bimbi che frequentano questo quartiere che è molto popoloso e solo in questa scuola ci sono circa 100 bambini che vengono tutte le mattine in periodo scolastico perché quest'anno faremo più di 400.000 euro di interventi in diverse scuole di Fano con interventi molto significativi nella scuola dell'infanzia di Vallato dove siamo in questo momento ma anche alla scuola dell'infanzia Albero Azzurro a San Lazzaro alla scuola elementare dei Cioraggi di Ponte Metauro la scuola elementare di Cucurano, la scuola media Nuti, l'asilo nido Il Grillo la ex scuola elementare ora adibita a Materna di Torrette quindi tanti interventi che però ci rendono molto soddisfatti perché finalmente riusciamo a fare degli interventi complessivamente strutturali importanti per tutta la città, sull'intero territorio comunale dopo anni in cui la manutenzione sia ordinaria che straordinaria a causa delle strettezze economiche era stata abbastanza ridotta e siamo all'interno della scuola materna del Vallato la prima delle sei scuole che subirà gli interventi di ammodernamento e di miglioria naturalmente non solo l'esterno sarà interessato di questa scuola a questa opera di riqualificazione ma anche due aule interne che avevano infiltrazioni e naturalmente hanno subito l'aggressione del tempo verranno riqualificate a tutto vantaggio dell'abitabilità e della salubrità di chi ci lavorerà dentro Notizie anche per le persone con disabilità che vogliono prendere il treno alla stazione ferroviaria di Fano da oggi infatti è attivo un servizio tutto dedicato a loro ed è un servizio per la salita e la discesa dal treno che da oggi finalmente è una realtà è soddisfatto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi che in una nota comunica che da oggi appunto è possibile per le persone a ridotta mobilità che ne faranno preventiva richiesta telefonica avere assistenza in stazione per salire e scendere dalle carrozze ferroviarie questo servizio è stato raggiunto grazie all'impegno comune avviato con la Commissione regionale per le pari opportunità che ha portato a concretizzare l'incontro con il servizio trasporti della regione e il direttore della rete territoriale ferroviaria italiana per le Marche Stefano Morellina la richiesta per coloro che vorranno avvalersi del servizio dovrà essere inoltrata con un anticipo di 48 ore alla Sala Blu di Ancona oppure chiamando il numero verde 890 60 60 oppure 199 30 30 60 e adesso torniamo a parlare dell'incendio che ha interessato l'azienda Profilglas a Bellocchi di Fano perché ancora non c'è nessun dato sulle analisi che l'ARPAM sta eseguendo sui campioni prelevati dai terreni circostanti interessati dalle piogge e dal vento che avrebbero potuto depositare scorie della densa nube che si sprigionò a causa appunto di questo incendio e dalle acque del torrente Arzilla e sugli eventuali agenti inquinanti presenti nell'acqua continuano anche nell'analisi del filtro della centralina che si trova a Bellocchi per rilevare eventuali elementi di tossicità presenti nell'aria al momento dell'incendio e adesso cambiamo argomento parliamo dell'ottava edizione di Cartoon Sea il premio internazionale di umorismo e satira presentata questa mattina in comune con una nuova collocazione il Bastione Sangallo occupiamo professionalmente la satira è il giusto mezzo per veicolare messaggi che ci stanno particolarmente a cuore e di grandi attualità come la sicurezza sul lavoro parla con grande soddisfazione di questa ottava edizione Oscardo Severi patron della Sea Gruppo SRL promotore dell'evento un'edizione di livello elevato per partecipanti e per giuria che ha saputo interpretare al meglio lo spirito di questo tema così importante siamo molto soddisfatti quest'anno siamo particolarmente soddisfatti perché come spesso si dice ma questa volta è particolarmente vero la qualità e la quantità delle opere è stata veramente entusiasmante c'è stato poi quest'aspetto della giuria la composizione della giuria è stata ha visto la partecipazione dei principali nomi carismatici della satira italiana da Giuliano o da altri per non sminuire nessuno comunque il livello era quello avevamo qualche perplessità sul fatto che il tema fosse abbastanza specialistico non perfettamente coglibile dai partecipanti eccetera anche lì invece tutto è andato oltre le previsioni perché il tema è stato affrontato da moltissimi autori da moltissime opere nel modo giusto e con lo spirito giusto tema di grande attualità quello della sicurezza sui posti di lavoro nei pensieri di tutti ancora la tragedia della Thyssen Group e la cronaca locale che nei giorni scorsi ha registrato anche a Fano un tragico evento ad oggi ancora purtroppo si muore per il lavoro e di lavoro sì purtroppo è drammaticamente attuale anche le nostre cronache locali purtroppo a volte ce lo ricordano e Cartoon Sea ha il merito di come dire attraverso la satira e l'umorismo di fare una riflessione seria per certi aspetti anche molto politica sul tema della sicurezza nel lavoro senza da un lato cedere al cinismo e dall'altro senza adagiarsi sull'ipocrisia l'edizione di quest'anno ha un nuovo contenitore uno spazio cittadino tra i più belli che sta vivendo grazie alle iniziative delle associazioni che organizzano eventi e mostre una nuova vita siamo molto contenti molto orgogliosi di ospitare Cartoon Sea quest'anno perché appunto il bastione è certamente un posto molto bello non è un posto convenzionale per ospitare mostre ma questo è il valore aggiunto nel senso che è un posto vivo è un posto vissuto pertanto ci sarà gente che assisterà agli eventi ci sarà gente che verrà per la mostra e questo scambio è appunto quello che creerà la sinergia più bella sia per la mostra che per il bastione stesso presto il dipinto del Magini che si trova nella chiesa di San Pietro in Valle verrà restaurato noi abbiamo chiesto i particolari all'assessore della cultura del comune di Fano Stefano Marchegiani un'importante tela che ha bisogno di un restauro abbastanza approfondito questo sarà possibile grazie a un'iniziativa del FAI che voi avete accolto con grande entusiasmo un'iniziativa molto importante ringraziamo il Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Pesolo Urbino che si è proposto per organizzare un'iniziativa di raccolta fondi che concorreranno al restauro della tela alla consegna delle chiavi del Magini che si trova ancora oggi a decorare l'altare maggiore di San Pietro è un'iniziativa importante per diversi motivi non solo per lo scopo ovviamente meritorio ma perché il FAI intende stabilire una collaborazione col Comune di Fano come già è successo col Comune di Pesolo e noi siamo apertissimi a questo coinvolgendo ovviamente i suoi iscritti coinvolgendo la cittadinanza c'è un bellissimo concerto organizzato il 22 luglio presso la chiesa di San Domenico che è stata messa a disposizione dalla fondazione Cassa di Risparmio di Elisa Ridolfi e dell'Ensemble del Barrio quindi l'occasione per passare una serata musicale interessante un aperitivo nel suggestivo Chiostro delle Benedettine la raccolta fondi consiste in un versamento di 25 euro che sarà sostanzialmente oltre per pagare le minime spese perché tutti hanno agevolato questa operazione i musicisti per primi per concorrere appunto alla spesa necessaria per il restauro poi c'è l'opportunità di visitare la galleria dell'Orofo Facchini che ha messo a disposizione questo spazio la signora Facchini era una iscritta Fai e quindi c'è un doppio motivo quindi è tutta la città che comincia a concorrere attorno al Fondo Ambiente Italiano per il restauro di un'opera emblematica significativa che è all'interno di uno dei più bei monumenti della città torniamo a parlare di asfaltature delle strade argomento sempre molto interessante soprattutto per chi per tanti anni e per tanto tempo ha dovuto penare con le buche presenti in molte vie della nostra città proseguono le opere dunque di asfaltatura programmate dal Comune di Fano prossimamente toccherà ad un tratto della Statale 16 che va da Ponte Metauro fino all'interquartieri per illustrare alla cittadinanza la tipologia di intervento e le modifiche alla viabilità l'assessorato ai lavori pubblici ha organizzato per domani giovedì un incontro pubblico all'Hotel Metauro in Viale Piceno con inizio alle ore 18 e 30 domenica scorsa a Montemaggiore al Metauro si è svolta una rievocazione storica per ricordare l'arrivo del primo ministro inglese Winston Churchill il 26 agosto del 1944 quando ispezionò le truppe dell'ottava armata prima dello sfondamento della linea gotica e passò in rassegna gli uomini del corpo polacco figuranti veicoli militari tra cui camion jeep e moto dell'associazione Green Liners insieme a civili in abiti d'epoca delle tante associazioni del territorio con allestimenti a tema hanno riproposto ai visitatori il periodo degli anni 40 uno sforzo organizzativo notevole per comune proloco e museo storico del Metauro ma che alla fine ha premiato tutti con grande soddisfazione e adesso rimaniamo in tema di revival storici perché a Torrette venerdì prossimo si terrà Torrette revival la seconda edizione vediamo venerdì 22 luglio Torrette revival siamo pronti anzi questa settimana ci ha dato la possibilità di lavorare ancora di più sui dettagli quindi speriamo che ci sia bel tempo e vi aspettiamo numerosi ecco quelli che avranno voglia di calarsi in questa atmosfera così anni 50 cosa troveranno di che cosa insomma si tratterà in questa giornata per la prima volta abbiamo chiuso il lungomare di Torrette di Fano che si chiama Via Stelle di Mare e quindi tutto il lungomare verrà praticamente addobbato abbellito a tema anni 50 60 per rivivere un po' l'atmosfera di quei tempi quindi DJ macchine moto d'epoca mercatino vintage scuole di ballo spettacoli tutto quello che riguarda il passato dagli anni 40 fino agli anni 60 70 ecco naturalmente sono attese tante persone anche il cibo avrà una parte in questo? certo è importantissimo anche perché le associazioni e i commercianti che hanno contribuito alla nascita e alla crescita di questo evento che è giunto quest'anno alla seconda edizione sono quasi tutti ristoratori albergatori bagnini proprietari di bar quindi la voglia è di animare questa frazione del comune e farla rivivere quindi ci sarà uno street food nella strada e si potrà mangiare di tutto Torretta Revival quest'anno è giunta la seconda edizione è un evento nato dalla signora Carla dell'hotel Oasi quest'anno con il mio supporto che mi occupo di eventi vintage un po' in tutta Italia e l'aiuto indispensabile della Proloco di Fano capitanata da Etienne 20 luglio oggi è Santa Pollinare patrono di Lucrezia di Cartoceto domenica scorsa è stata celebrata una messa presieduta dall'Arcivescovo Claudio Guggerotti Nunzio Apostolico in Ucraina e Valerio Lazzari Vescovo di Lugano Svizzera durante la celebrazione della messa si è tenuta la commemorazione del ventesimo anniversario della scomparsa di Mirko Buttaroni e Monico Miccioli due giovani sposi morti nel disastro aereo di Long Island il 17 luglio del 1996 in queste immagini vedete anche i gonfaloni dei quartieri che da questa sera fino al 24 di luglio si sfideranno in tanti giochi stile giochi senza frontiere per aggiudicarsi il titolo di campioni mentre qui vedete i due vescovi il vescovo di Lugano e il Nunzio Apostolico con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona serata arrivederci